Ciao 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 Go and train Go and train For us it was first day we played Euro tour, then next two days we played Asia tour Now we're in Baltic tour Yeah We played義 hockey Oh You Yeah Oh 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 La scuola è la scuola. Cintiè, piemeti. Tu vorrei fare anche due volte leopoli. Gli ho metto. Non è strano, ma la giurie sauda un po' un po' un po' un po'. Grazie a tutti. 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 Let's go. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , 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 ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, 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 ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.